RADIO PICTURE PARANORMAL 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 Benvenuti su Paranormal Channel Che paranormal, ma in realtà Non lo è Sono Hans in the Pirate Mistero Apparizioni, sparizioni, ectoplasmi Cambi di personalità Insomma, avete capito? Oggi voglio affrontare un esperimento in diretta Farò solo un tentativo Tenterò di far perdere i sensi ad un essere umano L'ho chiuso con me in sala di registrazione E lo farò senza il minimo contatto fisico Non gli rivolgerò neanche uno sguardo Dunque, cominciamo Facciamo entrare il tecnico Sì, ma sbrigiamo Se ancora devo montare 15 puntate del documentario Tranquillo Ora vieni qui accanto a me E rilasso la tua anima Sì Pensa ai fiori di primavera Sì Profumi Colori Colori Ora lasciatemi qualche istante per concentrarmi Bene Esperimento riuscito Anche oggi abbiamo dimostrato che il paranormale esiste 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 Alla prossima puntata di Paranormal Channel Insieme al vostro Hens in the Pirates RADIO PICTRO